mi dia la patente per favore è sua auto si è mia ma non gliela presta mi scusi non c'è bisogno di scusarsi non può comunque prenderla in prestito citroen c3 lo stile è finalmente per tutti ma non c'è bisogno di esagerare parti subito con i vantaggi citroen di giugno citroen c3 da 99 euro al mese